Cari nipoti, ben ritrovati. In questo tristo giorno in cui ci hanno lasciato sia Silvio Berlusconi che il povero Francesco Nuti, cerco di alleviarvi un po' il dolore con un nuovo video riguardo praticamente un po' tutto ciò che riguarda me e quello che è successo al mio al mio canale principale e ai miei canali in generale e di cui praticamente non ho dato mai effettivamente una notizia ufficiale per il fatto prima di tutto che non sono uno che si apre molto sui social network perché non sono un buon comunicatore anche se magari potrebbe l'attività che faccio su internet potrebbe far pensare il contrario ma non lo sono altrimenti sarei diventato un influencer e oggi avrei soldi e quindi dato che ultimamente ne sono venuti un po' anche dall'estero ma anche comunque da chi mi segue in Italia anche da chi mi segue da molti anni sono venute comunque sono venute fuori un po' di richieste di qualche chiarimento su ciò che è successo sulla fine che ho fatto allora io se non do molte informazioni riguardo a ciò che faccio è perché ci sono diversi diversi motivi prima di tutto perché forse sbagliando però io devo essere sincero con quello sono sempre stato non mi sono mai tenuto niente sotto la lingua quindi lo devo dire chiaramente non mi sono mai sentito effettivamente in dovere di dare troppe spiegazioni a chi mi segue ma proprio perché non ho mai dato troppa importanza a quello che faccio o non ho mai dato importanza magari all'impatto che ho avuto nelle vite se mai ne ho avuto qualcuno nelle vite di chi mi segue allora io mi sono sempre sentito uno che fa i video se vi piacciono vi piacciono se non vi piacciono non ve li vedete e stop finisce lì però è innegabile che con il proprio pubblico si instauri una sorta di legame in qualche modo e durante gli anni comunque con alcuni di voi ho effettivamente instaurato un legame da piccola percentuale c'è una piccola percentuale di persone che veramente ci tiene a me mentre invece il 99% probabilmente guarda i video neanche se ne potrebbe se io domani sparissi nel cosmo e un altro dei motivi per cui non mi apro molto è proprio quello il fatto che a mie spese negli ultimi anni tristemente mi sono reso conto che in realtà è proprio così che il 99% delle persone che ti seguono non gliene frega un cazzo di quella della fine che fai l'ho capito col fatto di aver raggiunto raggiunto 830.000 iscritti sul mio canale principale dal fatto che più volte ho detto a queste persone guardate i video vengono bloccati per copyright i video non non monetizzano molto quelle poche volte che non vengono bloccati non monetizzano perché comunque vengono seguiti in molti paesi dove la monetizzazione è molto bassa quindi possibilmente se volete comunque continuare a vedere i miei video contribuite in qualche modo su patreon un dollaro al mese chi cazzo chi è che non se lo può permettere un dollaro al mese e sostenetemi e neanche questo ha funzionato e quindi in realtà un po questa cosa mi ha diciamo un po demoralizzato e mi ha fatto capire che effettivamente una gran parte delle persone che mi seguono in realtà mi seguono per i video ma di me in realtà non gliene frega assolutamente niente quindi non mi sono mai sentito in dovere di dover chiarire le cose con questa grossa fetta di followers mentre invece magari per quell'1% effettivamente forse qualcosa gli è dovuto anche perché comunque anche quelli di cui non gliene frega niente in realtà hanno visto i miei video hanno supportato il canale con le loro visualizzazioni condividendo quindi hanno avuto anche un ruolo nella nella distribuzione dei miei contenuti e appunto non ho mai dato troppe spiegazioni e voglio farlo voglio cercare di concentrare tutto in questo video anche perché comunque non sono uno che ama molto parlare parlarsi addosso ed è quello che farò in questo video perché comunque in qualche modo devo chiarire un po di cose ciò che mi ha spinto comunque a fare questo video è prima di tutto il fatto che non c'è mia moglie in giro perché non so ultimamente non facendo molti video non facendo recensioni provo un certo senso di imbarazzo a mettermi davanti al cellulare o alla webcam a registrare qualcosa quando c'è qualcuno in giro anche una persona con cui ho una confidenza estrema come mia moglie quindi adesso se ne andate in giro a trovare delle persone qui nel parco sono da solo e quindi mi sento più motivato è un altro motivo per cui mi è arrivato praticamente un messaggio di un mio follower storico un certo Piero C che bonariamente si vede che è una persona che prova dell'affetto per me per i contenuti che ho fatto nel corso degli anni eccetera eccetera mi ha lasciato un commento abbastanza articolato diciamo sul mio comportamento rispetto ai followers che ho avuto negli ultimi anni dall'evoluzione che ha avuto il mio canale fino ai World Trailers e poi il ritorno per un certo senso un ritorno molto breve ai riassunti alla mia scomparsa completa da YouTube e tutto il resto appresso allora gli avevo promesso una risposta dovendogli comunque rispondere comunque al commento dato che mi rompevo le palle di scrivere un papiello di due pagine per una sola persona faccio questo video per tutte quelle persone che hanno un minimo di curiosità di sapere un po' le mie motivazioni la fine che ho fatto e ciò che mi ha portato comunque a prendere certe decisioni quindi vi leggo il commento ovviamente non c'è polemica in questo commento lo capirete anche voi e io rispondo affettuosamente a tutti i dubbi che questa persona comunque ha manifestato in questo commento caro zio so che non te ne potrà fregare avrò difficoltà a leggere perché senza occhiali non vedo bene però volevo fare questo video senza occhiali perché con gli occhiali sembra veramente il fratello del cazzo caro zio so che non te ne potrà fregare di meno so anche che probabilmente non leggerai questo commento ma mi piacerebbe scriverti comunque quello che penso sono uno dei tuoi vabbè già il fatto praticamente che dice so che non leggerai questo commento non è vero perché in realtà forse molti di voi non lo sanno ma io leggo tutti i commenti tutti anche quando non faccio video per anni ogni volta che arriva un commento lo leggo e possibilmente gli metto il like è una cosa che facevo anche quando facevo i video di world trader che facevano milioni di visualizzazioni e arrivavano decine di migliaia di commenti sotto quei video e io cercavo di mettere sempre il cuoricino a tutti per far capire a tutti che avevo letto il commento quindi in realtà il commento infatti l'ho letto e lo sto commentando con voi sono uno dei tuoi primi iscritti mi hai fatto passare ore di puro svago e divertimento e questo non può farmi che piacere grazie ai tuoi rassunti di kennel e di oscar e chi ne ha più ne metta mi hai riportato il sorriso quando lo avevo perso e questo basta per perdonarti tutto grazie di vero cuore perdonarvi tutto come... appunto c'è qualcosa che devo farmi perdonare vediamo cosa devo farmi perdonare perdonarti però non significa né essere concorde con i tuoi comportamenti né non rimanerci male per non dilungarmi molto ti riassumo quello che ho passato in questi anni è come un iscritto della prima guardia ha vissuto le tue decisioni quindi già qui restringiamo un po' il campo a chi mi segue comunque proprio dai primi video che ho fatto cioè parlo proprio di bloopers e altre stronzate il primo video che ho fatto su youtube e lo cito proprio perché servirà a spiegare una parte delle mie decisioni allora 1.1 hai trasformato il primo canale da quello che amavamo a un canale internazionale di trailer senza una sola parola di spiegazione c'è stata ma anni dopo ok nessun problema sono molto belli anche questi ultimi ok allora parlavo di bloopers e altre stronzate vi spiego perché magari lo avrò fatto in altri video magari non lo so sembrero ridondante con queste cose però comunque stiamo parlando cerchiamo comunque di fare un video completo dato che comunque tutti i miei vecchi video le mie vecchie recensioni sono spariti da internet perché il mio vecchio canale è stato venduto poi parleremo anche di questo e quindi partiamo dai bloopers io quando sono arrivato su youtube sono arrivato l'ho fatto perché avevo bisogno comunque io sono sempre stato un creativo nella vita ho sempre disegnato ho cercato di fare il fumettista sono diventato un grafico un animatore in flash sono sempre stato comunque una persona abbastanza creativa e youtube l'ho voluto vivere come una sorta di sfogo creativo perché erano da anni che vendevo articoli di elettronica in un negozio online l'ho fatto per dieci anni questo lavoro mi lasciava un po' di tempo libero ci guadagnava anche abbastanza bene e con questo tempo libero ho voluto in qualche modo dato che era un lavoro dove la creatività era veramente relegata a un piccolissimo spazio relativo magari alle grafiche che utilizzavi per vendere i prodotti un po' più accattivanti non roba che mi piaceva fare allora ho deciso di approdare su youtube come sfogo creativo quindi volevo fare delle cose creative creare dei contenuti e ho cominciato con Blueverse Alte e Stronzate chi si ricorda Blueverse Alte e Stronzate? io ne feci tipo tre puntate dopodiché dovetti mollare perché comunque invece il tempo che questi video mi portavano via era veramente tantissimo e a un certo punto mi si arrepentaglio il mio primo lavoro quindi feci soltanto tre episodi però che furono molto seguiti che mi consentirono di arrivare già ai miei primi mille iscritti e in realtà io in Blueverse Alte e Stronzate se ve lo ricordate c'erano molti effetti visivi perché io ho avuto sempre la fissazione degli effetti visivi quindi io parto come una persona che vuole essere creativa e voleva fare effetti visivi quindi tutte le cose che sono venute dopo le recensioni, i riassunti e roba male sono diciamo delle deviazioni dal percorso che era quello degli effetti visivi perché era quello che veramente mi appassionava però purtroppo la gente si ricorda diciamo purtroppo, tra virgolette purtroppo la gente si ricorda effettivamente i riassunti e si ricorda le recensioni io non ho mai capito cosa vi piacesse tanto delle mie recensioni ancora oggi c'è gente che me le chiede cioè non le faccio, oramai l'ultima l'ho fatta 8 mesi fa 8-9 mesi fa ma giusto perché avevo ripreso a fare un po' i video ma prima di quella recensione cioè sono stato fermo anni praticamente alcuni se le sono scaricate, se le sono conservate se le riguardano io non ho mai capito cosa vi piacesse tanto di queste recensioni forse vi sono simpatico io, non lo so comunque in realtà quelle erano delle deviazioni dal percorso principale io volevo fare gli effetti visivi purtroppo era roba che prendeva troppo tempo e quindi mi sono fermato per un po' quando ho fatto il primo weird trailer ho ripreso un po' gli effetti visivi mi è venuta questa idea di prendere i trailer di film di supereroi che erano molto seguiti e mi sono detto mi è venuta voglia di riprendere non era molto premeditata la cosa il successo di quei video non era premeditato non me lo potevo mai aspettare però mi tornò la voglia di fare era un sacco di tempo che non facevo più effetti visivi quindi mi è tornata la voglia di prendere in mano After Effects e ho preso il trailer di Batman v Superman e ho cominciato The Dawn of Justice e ho cominciato a fare gli effetti un effettino per ogni scena un effettino per ogni scena un effettino per ogni scena poi l'ho fatto uscire ed è esploso il fenomeno mondiale dei weird trailers che era assolutamente non aspettato dopo che già comunque bene o male avevo fatto i riassunti avevo lanciato comunque un genere dei riassunti dei cartoni animati su YouTube che ha dato vita comunque a altri canali che facevano quel determinato tipo di video quindi la mia creatività in qualche modo era stata comunque solleticata dal successo sia dei riassunti che dei weird trailer quindi in realtà io sono riuscito a dare qualcosa a YouTube che volevo dare e ho avuto un riscontro di pubblico che mi ha dimostrato che effettivamente la mia creatività poteva generare cose che potessero essere eseguite quindi ovviamente io ero al settimo cielo perché mi ero detto cazzo mi piace comunque fare gli effetti visivi mi piace fare i weird trailer faccio ho centinaia di migliaia di iscritti cioè sono arrivato c'è gente praticamente con la metà degli iscritti che si fa i soldi fanno gli influencer fanno la pubblicità cioè sono arrivato va benissimo e allora ho continuato ovviamente a fare i weird trailer ma no io non è che ho la deviazione dal percorso principale erano i riassunti e le recensioni che io cominciai a fare uno perché avevo comunque lanciato un genere quando ho visto che altri canali avevano preso quel genere e avevano cominciato a fare scusate si è spento uno schermo e non mi si vede più avevano cominciato a fare quei video che io avevo inventato mi sono detto vabbè a questo punto cioè perché non farlo io che praticamente ho creato il clone originale che era il riassunto di Kenny il guerriero e le recensioni le ho fatte appunto pur non divertendomi a farle perché l'ho detto più volte che non mi diverto a fare le recensioni io riesco a fare le recensioni soltanto quando me la sento calda un film ho qualcosa da dire allora faccio la recensione ma non è molto divertente le cominciai a fare per tenere il canale in qualche modo attivo perché era parecchio tempo che non facevo niente allora le recensioni erano facili da fare ti mettevi davanti alla telecamera stavi un'ora un'ora e mezza e ho fatto le recensioni ma la deviazione era quella quando ho cominciato a fare i weird thriller sono ritornato sulla mia strada principale che era quella appunto degli effetti visivi qualcuno di voi si potrà essere sentito tradito ma in realtà appunto io quella direzione la volevo prendere fino a prova contraria è vero che comunque gli iscritti al canale contano i follower contano però conta la mia linea editoriale prima di tutto poi a qualcuno può piacere ad altri no andiamo avanti punto 2 hai venduto il canale e ci hai solo chiesto di rimanere iscritti cose che io tuttora sono avevi scritto prima ancora delle spiegazioni di cui sopra allora la vendita del canale che è successo ho fatto i weird thriller per diversi anni mi sono interrotto o una o due volte sempre per la stessa questione cioè che youtube gestisce il copyright a cazzo di canale io non sono non me la prendo con i detentori del copyright perché è il loro diritto comunque di vendicare il copyright di qualche cosa io ovviamente per fare il tipo di video che facevo dovevo fare qualche cosa che andava contro le regole però sono regole che se venisse rispettate da tutti non esisterebbe più internet non esisterebbero i meme non esisterebbe niente quindi il copyright è qualche cosa che va aggiornato e questa è una cosa che ho sempre detto però io non ce l'ho con i detentori del copyright io ce l'ho con chi gestisce le leggi e con chi lo gestisce il copyright perché youtube comunque non ti tutela in nessun modo da questo punto di vista cioè io capisco io uso per esempio faccio un video di tre minuti uso sette secondi della tua canzone io posso capire che mi arriva l'avviso del copyright il claim per il copyright però tu non è che ti pigli tutta la monetizzazione ti pigli la monetizzazione di quella percentuale di video no sono tre minuti su sette sette secondi saranno una percentuale di video il due per cento che ne so dico una cifra a cazzo tu ti prendi il due per cento della monetizzazione non tutta la monetizzazione a me è successo proprio di fare un video di tre minuti ci ho messo la canzone di Vitas quella di Thanos Vitas Thanos che è poi diventato anche un meme abbastanza seguito abbastanza famoso non quanto Bulli McGuy però comunque anche quello fu un meme che ebbe un certo seguito sette secondi io per sette secondi mi sono visto praticamente cancellata la monetizzazione di un video che poi è arrivato a fare dieci milioni di visualizzazioni anche perché una volta che tu parti con il canale e fai comunque delle visualizzazioni può succedere che comunque non ti arrivi il claim per qualche motivo ma quando diventi famoso c'è gente che è preposta proprio ad andare a cercare le violazioni del copyright perché comunque su YouTube c'è il copyright che è automatico quindi tu metti una canzone quella automaticamente c'è un bot che riconosce la canzone e ti toglie la monetizzazione e la dà al proprietario della canzone io stavo in un network che aveva trovato un modo per aggirare questo controllo automatico quindi non mi arrivavano i blocchi per copyright automatici non tutti almeno però mi arrivavano quelli manuali dato che c'è gente preposta per andare a cercare proprio le violazioni di copyright questi qua in un momento in cui avevano saputo che Aldo Jones faceva video di trailer di film Marvel DC Comics eccetera eccetera e faceva milioni di visualizzazioni appena usciva un mio video arrivavano come i pazzi e mi toglievano la monetizzazione cioè all'inizio il video magari faceva un milione due milioni di visualizzazioni e poi arrivavano i metodioni della monetizzazione negli ultimi video arrivavano praticamente subito questi reclami per copyright e quindi la monetizzazione quel po' di monetizzazione non arrivava più neanche quella poi c'è la questione praticamente delle zone allora io adesso ho il canale italiano dove ho fatto anche qualche riassunto di Lady Oscar la monetizzazione in Italia è abbastanza alta infatti a me almeno per quanto riguarda il mio caso mi arrivavano più di un euro ogni mille visualizzazioni quindi magari il video di Lady Oscar faceva 7.000 9.000 8.000 visualizzazioni e mi arrivavano più o meno 10-11 euro che ovviamente su un video che fa 10.000 visualizzazioni non sono un cazzo però su un video che ne fa magari un milione due milioni cinque milioni dieci milioni sono bei soldi però non funzionava così perché molte persone mi seguirono proprio dal terzo mondo alcuni mi seguirono proprio da zone di guerra io c'era un sacco di gente che mi seguiva dalle zone di guerra c'era gente che mi seguiva dalla Siria gente che mi scriveva e diceva tu qui c'è la guerra ma tu mi rendi le giornate più piacevoli che era una cosa bellissima perché proprio portava un po' di gioia comunque nella vita di queste persone altri praticamente invece mi seguirono magari dall'India dalla Russia dove ogni mille visualizzazioni non si faceva un euro e qualche cosa si facevano 30 centesimi 10 centesimi in altri non c'era proprio la monetizzazione e il tipo di umorismo io non lo so perché non vorrei comunque generalizzare comunque però il mio tipo di umorismo piaceva molto in India in Medio Oriente comunque in paesi in cui la monetizzazione era molto bassa comunque tutto sto casino per arrivare al punto che io col canale non ci guadagnavo un cazzo anche se ce l'avevo 830.000 iscritti e cioè avevo video che facevano il minimo di visualizzazione ogni ogni weird trailer mi pigliava giusto un mese di lavoro a full time quindi non ho potuto mai neanche dire vabbè allora magari faccio qualche corso di After Effects lo metto sul mio Patreon così uno magari si sente spinto ad entrare nel mio Patreon si compra il corso faccio una cosa perché non era possibile perché io non riuscivo non riuscivo proprio a fare nient'altro al di fuori dei weird trailers neanche a caricare dei contenuti esclusivi su Patreon per fare in modo che la gente si sentisse invogliata a pagare quell'euro al mese per comunque per arrivare su Patreon io avendo 800.000 iscritti su Patreon raga cioè se l'1% dei miei iscritti al canale che erano 800.000 mi avesse dato un dollaro al mese io avrei fatto 8.000 dollari in un mese ma io neanche a questo volevo arrivare ma neanche allo 0,5% io volevo arrivare ma allo 0,25% magari 2.000 dollari al mese ogni tanto arrivava qualche sponsorizzazione qualche che ne so qualche VPN che ho fatto pubblicità di VPN anche di giochi online però erano sponsorizzazioni che pagavano anche bene io in una sponsorizzazione ho avuto 3.000 dollari per fare un minuto di pubblicità tra l'altro bastardi che mi hanno costretto a me ogni volta che mi chiedevano la pubblicità me la facevano sempre mettere all'inizio del video adesso vedo i video di Barbascura di Yotobi dove fanno sempre la pubblicità loro i video li fanno perché comunque arriva lo sponsor devo giustificare questa cosa fanno il video perché devono acchiappare i soldi dallo sponsor e loro la pubblicità la mettono alla fine a me invece me la facevano mettere all'inizio comunque ammortandomi parecchie visualizzazioni perché la gente vedeva la pubblicità all'inizio sapete benissimo che comunque la gente è un po' pigra allora non è che dice vabbè salto la pubblicità e mi guardo il video dopo alcuni partiva la pubblicità non si lo vedeva vabbè comunque piccola parentesi in tutto questo capito gli sponsor non è che arrivavano spesso pagavano bene ma non è che arrivavano spesso arrivavano ogni tot mesi e i soldi praticamente e su Patreon praticamente tipo io sono arrivato a farci massimo esagerando tipo 400 450 euro nei periodi proprio di massimo splendore e a un certo punto non ce l'ho fatto proprio più economicamente mi sono fermato una volta poi è uscito il trailer di Avengers Civil War ho fatto Civil War sono ripartito ho fatto qualche altra cosa ma poi a un certo punto mi sono fermato anche perché comunque c'erano altre cose in ballo avevo cominciato a collaborare con una start-up inglese che faceva video virali sul calcio che pagavano molto bene e allora mi sono dovuto fermare col canale e l'ho lasciato lì nel momento in cui non caricavo più nulla sul canale da mesi è arrivato un possibile acquirente del canale io ero delusissimo ma veramente delusissimo non volevo più sapere più niente di fare video su YouTube perché comunque avevo quella era stata la dimostrazione definitiva che io non ero in grado comunque di viverci di quelle cose anche con 800.000 iscritti anche il mio canale è stato per un certo periodo uno dei canali più virali del mondo difficile dirlo adesso perché adesso i video non ci sono più il nuovo proprietario ha levato proprio i video di mezzo fortunatamente non li ha cancellati ma sono privati neanche io posso accedere più a questi video però per un certo periodo i miei video io comparivo nei tag prima di Ische o Ischul Devendi quelli che fanno i cartoon animati su come sarebbero dovuti finire i film e anche addirittura degli honest trailers io venivo prima di loro anche perché comunque avevo avevo un sacco di reaction ai miei video e anche in questo caso qua anche così non sono stato in grado di guadagnarvi viverci la delusione è stata qualcosa di incredibile e anche questo comunque unito al bisogno di soldi mi ha spinto a vendere il canale proprio per chiudere una volta per tutte con con YouTube e lasciare comunque aperto il canale più piccolo per tornare a fare cose più piccole semplicemente per come sfoco sempre come sfoco creativo perché alla fine io non sono mai stato non ho mai capito nemmeno se io ho mai voluto essere popolare su YouTube ovviamente dico di sì perché sarei un bugiardo se dicessi che non è bello sentirsi in qualche modo riconosciuti nella nella propria bravura nel creare dei contenuti è bello vedere le persone che ti fanno i complimenti eccetera eccetera però per contro non sono mai voluto andare alle fiere ho sempre poi io ho sempre quest'ansia questi questi dubbi mi invitavano magari alle fiere io dicevo di no perché dicevo ma chi cazzo è che viene là per vedere me per sentirmi parlare di questi weird trailer anche perché comunque non sono mai stato troppo convinto anche se comunque avevo tipo 30.000 italiani che mi seguivano sul canale o forse 60.000 che mi seguivano sul canale che non sono pochissimi però io avevo ero seguito in tanti paesi sai come quei gruppi musicali che hanno una piccola clac però in ogni singolo paese del mondo e questi qua insieme fanno 800.000 iscritti secondo me non erano sufficienti quei 60.000 italiani per fare per riempire comunque magari un'aula un posto di persone interessate alle cose che facevo io quindi questo più un po' di scazzo mio che sono asociale per definizione non ho mai voluto comunque partecipare non ho mai voluto comunque in qualche modo stare troppo sotto i riflettori e questa è una cosa che mi ha anche questo comunque mi ha spinto a non stare troppo sui social sì ci sto però faccio una battutina ogni tanto ci metto qualche stronzata qualche meme ma non sono mai stato bravo comunque ad andare avanti in questo in questo senso intanto è tornata è tornata la zia che non mi deve interrompere perché sto registrando il video e quindi in realtà alla fine ho venduto anche perché comunque ero coperto perché stavo lavorando con questa startup inglese che mi pagava bene e comunque ci facevo ci facevo i video virali che erano comunque montaggi video con gli effetti speciali video divertenti che mi divertivo a fare e quindi praticamente ho venduto il canale perché c'era c'era un acquirente e avrei rischiato se avesse aspettato troppo avrei rischiato che l'acquirente appunto se magari si sarebbe disinteressato e quindi avrei lasciato lì un canale morto con i miei video sopra sì però senza niente senza caricarci niente di nuovo poi ti ho detto ho voluto fare questa cosa perché ho voluto comunque tagliare troncare col passato io poi sono fatto così ho fatto 2000 cose nella mia vita a un certo punto mi rompe i coglioni come con le cozio dove vende particoli elettronici io mica l'ho chiuso perché ho dovuto chiuderlo a un certo punto mi sono rotto le palle era esploso il mio canale su youtube mi sono detto vabbè basta con sta merda faccio quello che voglio fare veramente e l'ho fatto più volte nella mia vita io faccio così proprio tronco proprio col passato non è che dico vabbè continuo a fare questa cosa così un po' no io tronco proprio e faccio completamente un'altra cosa nel frattempo dopo la vendita del canale è venuto meno è venuta meno anche la società inglese mi ha lasciato a piedi in tutto questo però questa è un'altra storia andiamo avanti questo video verrà lungo già siamo a 26 minuti e anzi metto anche il caricabatterie del cellulare perché non so se poi legge scusate un po' di shaking ecco qua ok andiamo avanti però so che a voi piacciono i video lunghi quindi magari mettete aumentando un po' la velocità mettete per due e ve lo vedete nella metà nella metà del tempo nel frattempo punto 3 nel frattempo è aperto il canale di Zio Jones questo vabbè questo dove ha lasciato il commento ma lo hai sempre lasciato morto fino a qualche tempo fa nessun problema gli impegni sono impegni ma ogni tanto qualche saluto ci sarebbe piaciuto lui sta parlando del canale dove sto ricaricando avendo venduto il vecchio canale sto ricaricando i miei weird traders su un canale nuovo creato appositamente per quello però ovviamente ci ho caricato qualcosa qualcosa no un po' mi rompo i coglioni quindi il canale effettivamente ogni tanto ci carico qualche vecchio video ma ovviamente di cose nuove non ne faccio se faccio qualcosa di nuovo come questo video qua tenderò a caricarlo sull'altro canale vi ho fatto un po' di confusione perché questo qua ha lasciato il commento sul canale dove sto caricando i weird trailers che dovrebbe essere un canale internazionale e poi ha detto il canale di Zio Jones che invece sarebbe quell'altro di dove carico i contenuti in italiano però vabbè ho capito cosa intendesse intendesse dire però ripeto io se non do aggiornamenti è sempre perché comunque in qualche modo mi chiedo ma chi cazzo gliene frega capito per i motivi di cui dicevo prima ma a quanto pare a qualcuno frega quindi facciamo sto video e accontentiamo chi magari può sentirsi accontentato da una cosa del genere punto 4 ti sei messo una cosa diciamo un po' un po' più delicata ti sei messo a pubblicizzare un'attività di guadagni extra attività a cui ho dato un'occhiata per il rispetto e l'affetto che nutrono i tuoi confronti e poi hai cancellato i video senza nessuna spiegazione senza tenere conto di chi ti aveva seguito sulla fiducia non approfondisco perché non è la sede magari due parole per spiegare si è spento un'altra volta il monitor un attimo solo magari due parole per spiegare il tuo allontanamento sarebbero state gradite allora io per un certo periodo ho fatto parte di una community che si occupava di bonus sportivi bonus sportivi che attualmente continuo a fare e con cui continuo a guadagnare un po' di soldi ho pubblicizzato questa avendo un canale youtube praticamente ed essendo entusiasta di questa cosa prima di tutto perché è stata comunque una realtà creata da una persona che conoscevo e di cui mi fidavo e poi perché comunque questa cosa dei bonus sportivi è veramente qualche cosa che può far guadagnare dei soldi e io ripeto lo sto continuando a fare adesso però non è che lo sto a pubblicizzare questa pubblicizzare adesso questa cosa l'ho fatta l'ho fatta quella pubblicizzata ho pubblicizzato quell'attività perché ci credevo e sapevo praticamente che potevo in qualche modo avere dei vantaggi pubblicizzando perché avrei preso una percentuale su quelli entrati che avrebbero comprati i corsi e avrei potuto fare del bene a quelli che poi sarebbero entrati e avrebbero cominciato a fare il match betting il bonus sportivi eccetera eccetera perché effettivamente si guadagnano soldi facendo i bonus sportivi però col tempo stando in questa attività in questa community mi sono reso conto che stavano un po' esagerando su certe cose non dico il nome della community perché non voglio che neanche per curiosità qualcuno si possa avvicinare se volete fare i bonus sportivi vi consiglio di farli perché sono una realtà però fatela cercando su google cercate match betting oppure bonus sportivi vi escono comunque delle attività però non andate non fatevi coinvolgere in questa che ho pubblicizzato io perché loro partono dal match betting però poi dopo propongo tutta un'altra serie di cose molto al limite che diciamo mi hanno fatto parecchio storcere il naso e mi hanno fatto allontanare da quella realtà e quindi ho anche oscurato i video perché quello che pubblicizzavo era vero cioè i match e le scommesse sportive ripeto io ancora ci guadagno dopo più di tre anni che li faccio però poi qualcuno magari per curiosità sarebbe potuto finire in quella in quell'ambiente dove ci sta comunque dove usano diciamo un metodo di comunicazione molto sopra le righe che potrebbe comunque spingere qualcuno a investire a fare investimenti abbastanza pericolosi hanno fatto perdere soldi a un sacco di gente per certe cose che hanno fatto però non so qui ad approfondire e quindi ho oscurato i video però in realtà non è che mi abbia seguito molta gente lì qualcuno che ancora oggi sta facendo i bonus c'è però altri magari sono entrati hanno fatto un po' numero però comunque non è che hanno fatto molto però io mi sento comunque in buona fede perché ho pubblicizzato appunto i bonus sportivi per dire dato che ho venduto il canale e non ho fatto non sto lavorando più per quella startup inglese perché è fallita io se non avessi avuto i bonus sportivi adesso starei vendendo i calzini tre paia cinque euro per strada per dire non è che ci guadagno tantissimo con i bonus però ci guadagno abbastanza fortunatamente io e la zia non abbiamo figli il mutuo l'abbiamo finito di pagare fortunatamente all'epoca cioè un po' di tempo fa e quindi in realtà anche se guadagno meno di mille euro a noi bastano ci consentono anche di avere qualche qualche piccolo russo proprio per il fatto che non abbiamo figli poveri e contenti insomma questo è quanto però io continuo a farli bonus sportivi quindi diciamo se vi volete informare informatevi io non vi dico dove dovete andare non andate dove vi avevo mandato la prima volta però se li volete fare fateli ed è questo il motivo per cui praticamente poi non ho non ho aggiunto altro sempre per gli stessi motivi di cui vi dicevo e per quelli che vi ho detto adesso in questo punto qua punto 5 finalmente ci hai riproposto i contenuti che ci piacevano tanto a spizziche e bocconi ma tanto ci bastava e questo di per sé sarebbe bastato per dimenticarsi di tutti i trascorsi allora non sono spizziche e bocconi perché comunque per un certo periodo sempre risalente dopo a 8-9 mesi fa ho comunque tirato fuori diversi episodi di Lady Oscar ho tirato fuori un nuovo riassunto di Kenny il guerriero ho fatto addirittura un paio di recensioni però raga io mi sono reso conto di una cosa fondamentale fondamentale che ho 49 anni ho fatto anche un po' delle live su Twitch tra l'altro che sono state divertenti però mi devo rendere conto di una cosa fondamentale che ho 49 anni e mi sono rotto il cazzo allora sapete che succede? prima di tutto io faccio la mia giornata si compone in questo modo mi sveglio vado al bar con la zia mi piglio un caffè mentre ci pigliamo il caffè ci leggiamo un libro a testa o mi leggo un fumetto un cazzeggio torno a casa faccio i bonus sportivi che comunque pigliano poco tempo fortunatamente dopodiché mi metto a studiare perché io ho questa fissazione sempre che io studio in continuazione io sono uno studioso compulsivo però sfortunatamente non mi non mi focalizzo sempre sulla stessa cosa allora ogni volta cambio adesso praticamente sto studiando Blender e la grafica 3D e quindi mi metto a studiare quel po' di tempo libero che mi rimane non mi metto a fare i rassunti le recensioni oppure live su Twitch mi metto nel letto mi metto a vedere qualcosa con la zia oppure mi vado a prendere un'altra cosa al bar e cerco di godermi la vita non ho la voglia di mettermi a ricominciare con i rassunti il canale tutto il casino cioè dopo tutto quello che ho passato sono stato anni su YouTube a fare questa cosa questa roba quindi attualmente mi considero comunque uno YouTuber in pensione non credo di avere molto più da dimostrare ho dimostrato comunque di di poter arrivare a certi livelli ho dimostrato di poter creare contenuti che piacciono a molte persone ho creato un meme che ha spopolato che come di riassunti dei cartoni dei cartoni animati ha dato vita a interi canali che campano semplicemente sul meme di bully mcguire non ci ho mai guadagnato niente neanche su quello magari uscisse fuori qualcuno che magari fa le magliette di bully mcguire così metto in mezzo l'avvocato sai mi faccio la percentuale perché non sarei mai in grado di poterlo fare non ho le capacità imprenditoriali per fare queste cose scherzo ovviamente non ci ho mai guadagnato niente però comunque sono cose che danno soddisfazione però attualmente non ce la faccio proprio più non ho più la forza fisica e morale di riprendere di nuovo un percorso su youtube partendo da un canale con poche migliaia di iscritti potrei tirare fuori qualche video ogni tanto come questo magari perché poi scopro sempre rinnovo sempre la scoperta di persone che mi amano sentire parlare non so per quale motivo forse perché ho una faccia simpatica questo devo ammetterlo sono una persona che normalmente risulta simpatica forse perché sono genuino non lo so non so mentire non so raccontare palle quindi anche tutte queste cose qua che possono essere anche possono rappresentare anche degli errori che ho commesso nel mio rapporto con voi spero che me li perdoniate perché comunque sono sempre cose che ho fatto in buona fede anche quella cosa dei bonus sportivi ero veramente convinto che e sono ancora convinto che di farla per raggiungere insieme per avere insieme un vantaggio un vantaggio per voi per guadagnare per avere dei guadagni extra con i bonus sportivi un vantaggio per me perché avrei avuto comunque ovviamente delle agevolazioni nell'acquisto dei corsi portando comunque persone sono l'affiliate marketing in sostanza come quelli che vendono le cose su Amazon e tu te la compi con il loro link e loro ci guadagnano qualche cosa non c'è niente di male in questo andiamo avanti punto 6 hai ritrasformato il canale in quello che era il tuo principale con i trailer internazionali ed anche qui senza nessuna spiegazione questo no in realtà è sbagliato perché credo che lui stia facendo confusione tra il nuovo canale Aldo Jones che ha 4000 iscritti e il vecchio e il canale italiano Zio Jones sul canale Zio Jones ho caricato qualche weird trailer ma solo quelli in italiano perché ho pensato era il mio canale in italiano ci carichi weird trailer in italiano ci metto qualche contenuto quel canale là è monetizzato magari succede che fanno qualche visualizzazione ci faccio un po' di monetizzazione anche di là quindi in realtà non mi sono sentito disnaturare il canale con quel contenuto perché erano weird trailer in italiano su questo qua invece questo Aldo Jones con 4000 iscritti l'ho creato proprio per caricarci i weird trailer quindi non c'è niente di male quindi diciamo qui il nostro amico Piero è andato comunque un po' in confusione quindi diciamo questo punto qua penso di averlo chiarito e lui dice continuerò a seguirti ad amare tutti i tuoi contenuti ma lo farei molto più felicemente se facessi un breve video dove ci fai partecipi dei cambiamenti scusate non ci vedo un cazzo un abbraccio un fan e io ringrazio Piero perché comunque è un commento di critica però di critica costruttiva che si vede che è stato fatto da qualcuno che in sostanza sì mi sta un po' cazziando ma in maniera abbonaria perché ama i miei contenuti perché in qualche modo tiene addirittura alla mia presenza comunque su YouTube guardi ragazzi io spero di essere stato comunque chiaro su tutto sicuramente mi sono perso qualcosa per strada ho risposto credo di aver risposto in maniera abbastanza dettagliata ogni singolo punto però qualcuno di voi magari qualche domanda potrebbe potrebbe ancora ancora averla nel caso magari fatemela nei commenti cercherò di cercherò di rispondere per quanto riguarda progetti futuri io non lo so io non è che sto mettendo che sto mettendo la parola fine sulla mia attività mi considero uno YouTuber in pensione però potrebbe anche tornarmi domani io sono così sono volubile potrebbe tornarmi la voglia di condividere qualche cosa magari qualche contenuto nuovo qualcosa in 3D con Blender qualcosa del genere oppure magari anche la recensione di un film che magari mi sento in particolare magari mi sento in forma per poter fare qualche recensione se magari qualche film con qualcosa da dire in particolare su qualche nuovo film uscito non sono neanche andando tanto al cinema mi sono assuefatto completamente allo streaming allo streaming legale è troppo comodo per me dite quello che volete ma comunque ho un bel televisore gigantesco quindi riesco a godermi tranquillamente a casa i film quindi non posso nemmeno recensire le ultime novità perché ovviamente non tutto esce in streaming insieme all'uscita nelle sale e poi l'ho detto non mi sento molto non mi sento molto preso dalle recensioni non c'è non c'è un lato creativo nel fare le recensioni di film e quindi dato che io prediligo sempre quel lato creativo vabbè comunque la sto portando un po' troppo per le lunghe se avete delle domande da farmi riguardo all'argomento all'argomento di ojonze cazzo di fine è fatto magari lasciatele sotto al video io intanto vi saluto ciao ciao a tutti